Sergio Baldo, responsabile Fiamme Oro Atletica Leggera e appunto ricordiamo che la sede delle Fiamme Oro Atletica Leggera è proprio a Padova. Parliamo dei vostri atleti che parteciperanno agli europei tra pochissimi giorni, inizieranno infatti martedì. Sì, saranno sei i nostri atleti protagonisti ai prossimi campionati europei. Nella velocità abbiamo Enrico De Monte e Isolette Juarez, rispettivamente nei 200 e nei 4x400 metri. Ricordiamo Atleti Padovani perché da qualche anno si allenano in questa città, quindi noi li abbiamo adottati a tutti gli effetti e ci stringiamo forte a loro perché li abbiamo visti preparare questo europeo giorno su giorno e al meglio. Poi abbiamo i nostri ostacolisti, Paolo Dal Molin e Assano Fofanà, saranno protagonisti dei 110 ostacoli. In particolar modo anche Paolo Dal Molin abbiamo visto protagonista dei campionati assoluti con un ottimo tempo che ben ci fa figurare per una finale ai campionati europei. E poi il nostro marciatore Massimo Stano, molto giovane, 23enne e che da lui non ci aspettiamo un podio ma ci aspettiamo un grande piazzamento perché avrà modo di potersi esprimere anche in futuro. In ultima, abbiamo Daniele Greco che è il ferro e l'occhiello delle fiamme oro, la nostra punta di diamante. Quest'anno in modo particolare è stato vittima di un infortunio che l'ha limitato e questa tendinita è fastidiosa, il tendinite d'Achille e la gamba di stacco non gli sta dando pace e anche negli ultimi giorni la sua presenza è in forse. Se lui riuscirà ad esprimersi al meglio per le qualità che ha, ricordiamo che è un atleta che usa la velocità e fa la velocità al suo punto di forza, speriamo che risolva presto il problema del tendine e che gli antifiammatori possono dare effetto in modo da poter competere al meglio. Facciamo un in bocca al lupo allora ai vostri atleti? Certo, un in bocca al lupo che possono esprimersi per quello che valgono, che riescono a fare bella figura e che escono dalla pista essendo sicuri di aver dato il massimo.